Ciao, sono Cecilia Costantino di universoolistico.it e oggi vi guiderò nella meditazione Theta Healing al settimo piano in cui potrete guarire la vostra vita, quella di qualcun altro e fare tutte le richieste che desiderate al creatore. Perciò iniziate mettendovi seduti nella posizione del fiore di loto con le gambe incrociate e le mani poggiate appunto sulle ginocchia. Fate adesso un respiro profondo e chiudete gli occhi. Inspirate ed espirate. Inspirate ed espirate. Adesso immaginate l'energia luminosissima che sale attraverso i vostri piedi e che attraversa tutto il vostro corpo, passando dalle gambe, arrivando ai glutei, alla schiena, l'addome. Tutto è riempito da questa luce, da questa energia fortissima. Il petto, il collo, poi scende giù lungo le braccia, sino alle mani, poi risale, ritorna al collo e irradia il vostro volto. A questo punto questa energia fortissima esce dal vostro capo verso l'alto, creando una bolla di luce luminosissima. Immaginatevi adesso all'interno di questa sfera di luce luminosissima e iniziate a salire su nell'universo, in alto, sempre più in alto, protetti da questa bolla di luce, siete al sicuro. Salite in alto, attraverso strati e strati di luce sempre più in alto e adesso vi trovate ad attraversare uno strato, una fascia di luce dorata. Passateci dentro, passate in mezzo e sentite quanto brilla questa luce dorata. Passate adesso attraverso uno strato, uno strato gelatinoso, come un gel, finché non raggiungete una luce bianca, iridescente, luminosissima. Questa è l'energia della creazione. Questa è l'energia che crea le particelle e i protoni. Questa è l'energia luminosa della vita. Questo è Dio. È l'energia della creazione e adesso che siete lì voglio che immaginiate di fare una richiesta, una richiesta al creatore di tutto ciò, di tutto ciò che esiste. È una richiesta che dovrete comandare. Comandate una guarigione per una data persona e che l'amore incondizionato vada ovunque su tutto il corpo. Quindi chiedete, creatore di tutte le cose, comando una guarigione, il nome della persona. E voglio che l'amore incondizionato vada ovunque su tutto il corpo di questa persona e che questa persona venga guarita e stia bene. Oppure potete dire semplicemente, creatore di tutte le cose, questa è la mia vita adesso. E poi date un comando, quello che desiderate, quello che volete nella vostra vita. E poi quando finirete di dire la vostra richiesta in mente, visualizzate ciò che è stato comandato. E poi immaginate di andare nella luce bianca, iridescente e assicuratevi di dire grazie, è fatto, è fatto, è fatto. Fate un respiro profondo e aprite gli occhi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.